Che vuoi? Romina Carrisi Power denuncia una fake news di una nota rivista, ecco il motivo La quartogenita di Albano e Romina ha segnalato qualcosa di non veritiero La storia legata alla crisi tra il Carrisi e l'Alecciso per colpa delle continue intromissioni della Power ha fatto sì che molti giornali di gossip e trasmissioni televisive parlassero di questo argomento Anche ieri Barbara D'Urso ha mostrato ai suoi telespettatori un nuovo servizio che parla del triangolo amoroso e Monica Setta ci è andata giù pesante nei confronti di Romina Alcuni giorni fa ha parlato anche ieri, il secondo genito della storica coppia, svelando a tutti per quale motivo la madre non sia partita per l'Australia con l'ex marito Ma nella vicenda è intervenuta pure Romina Junior che ha denunciato sui social un fatto molto grave Romina Junior contro la rivista Infamiglia Qualche giorno fa, la quartogenita di Albano e Romina, attraverso il suo profilo Twitter, ha postato la foto della prima pagina di Infamiglia, un noto periodico di gossip Nella copertina si vede la ragazza abbracciata alla madre e sopra di loro l'altra sorella Cristel e il padre. Il periodico come titolo ha scritto questo, Cristel e Romina è lunga e reschierate con mamma e papà, siamo noi la famiglia All'interno dell'articolo il giornalista ha riportato un'intervista delle due ragazze che avrebbero espresso il desiderio di rivedere i loro genitori di nuovo insieme come in passato A quanto pare, quelle dichiarazioni non sono mai state fatte a quel magazzine, infatti la stessa Carisi lo ha ribadito attraverso questo messaggio, mai rilasciato questa intervista, carina però la mia foto, cancelletto Fakenievs Attraverso questo post la giovane artista ha fatto intendere ai suoi seguaci che trattassi di notizia falsa e che non devono credere a tutto quello che scrivono i giornalisti Ovviamente gli ammiratori della trentenne hanno ringraziato la loro beniamina di averli avvisati riempiendola come sempre di complimenti. Ecco il post di cancelletto Romina Carrisi su Twitter Romina Power contro Di Più. Qualche giorno fa dello stesso avviso è stata la madre Romina nei confronti del settimanale Di Più Secondo la cantante americana, la rivista diretta da Meyer avrebbe manomesso del tutto le dichiarazioni fatte dalla sorella Tarini in modo da sembrare offensive nei suoi confronti e verso Albano L'artista lo ha denunciato attraverso un post molto forte su Instagram, mentre il magazzine ha diffidato l'ex moglie del Carrisi, video. Per conoscere altre notizie e curiosità sulla storica coppia continuate a seguire questo sito. Cancelletto Romina Power Cancelletto Albano Carrisi Cancelletto Albano Carrisi